Sindaco, da Campotosto non è tornato con le mani vuote? No, io devo dire, è stato un bell'incontro, ringrazio il Presidente D'Alfonso perché comunque ci ha dato questa opportunità. Non c'era stato a Campotosto dopo il terremoto, è davvero un paese distrutto che ha davvero ancora poche cose. Però è stata l'opportunità per un confronto, un ulteriore confronto. Io ne ho già avuto uno con Tajani quando ero stato a Bruxelles per far capire le difficoltà che stiamo vivendo. Loro se ne sono resi conti, innanzitutto è arrivata la notizia oggi detta proprio lì in diretta che la comunità europea finalmente ha liberato i fondi del FERS che potranno essere utilizzati al 95% per la ricostruzione. Quindi una buonissima notizia che aspettavamo, l'avevamo già preannunciata, io l'avevo già detta quando ero andato a Bruxelles, però diciamo che oggi è realtà. Le sei scuole, quattro verranno salvate, due no, verranno dismesse. Tra quelle salvate c'è la San Giuseppe con un intervento che sarà un intervento importante. Ma io oggi in commissione, la seconda commissione che abbiamo voluto convocare appunto per partecipare anche con l'opposizione, le scelte, anche se oggi l'opposizione ha preso un atteggiamento diciamo di non partecipazione e non ha dato il proprio contributo a queste scelte. Questo per me è una cosa molto grave perché vuol dire che non hanno a cuore Teramo e non hanno a cuore il futuro di Teramo, non hanno a cuore le scuole di Teramo e questa è una cosa che ritengo molto grave. Ma al netto di questo chi ha voluto partecipare ha dato proprio il contributo. Abbiamo deciso che il primo intervento che porteremo avanti è un polo scolastico che parte dalla San Giuseppe. Questa è la priorità per Teramo in questo momento. Questo ci permetterà di riportare 800 ragazzi o circa qualcosa in più di 800 ragazzi in centro storico. Ed è una scelta molto importante. A seguire faremo anche il polo dell'Adalessandro, il recupero della scuola privata, che però poi non è privata, del Regina Margherita, poi c'è il Braga e poi alla fine abbiamo anche deciso che Via Tevere non tornerà ad essere scuola materna. Ovviamente il commissario ci darà risorsi per recuperare anche Via Tevere e per farne una struttura che svolga attività sociale. La Savini la venderete? La Savini la metteremo sul mercato perché ritengo che comunque sia un edificio appetibile. È chiaro che sulla Savini la scelta è stata un po' obbligata. Nel recupero della San Giuseppe è anche inglobato il vecchio stadio comunale dove c'è un progetto che lei oggi ha presentato in commissione e già ben definito. Allora, quella è un'idea, non è un progetto, è solo un'idea per far capire che avendo anche noi avuto la conferma di avere i 16 milioni di euro del bando delle periferie e quindi verrà utilizzato quello spazio. C'è la possibilità di, diciamo, costruire una stecca che sarà una scuola media per circa 500 ragazzi. E questo in uno spazio verde perché lì sarà il vecchio stadio, resterà comunque verde all'interno della città per cui mi sembra, insomma, che è una scelta che va verso la scuola, va verso, diciamo così, l'ambiente perché sarà un verde attrezzato e andremo finalmente, come dicevo prima, a ridare un po' di respiro a questa economia cittadina che comunque sicuramente ha risentito dello spostamento della Savini e della San Giuseppe presso la zona della stazione.